Rolandi, oggi c'è stato questo sit-in a Pescara da parte dei lavoratori della GSA, i motivi di questo sit-in? Poi avete chiesto, ottenuto anche un incontro con il prefetto di Pescara, cosa avete chiesto? Questi presidi si stanno svolgendo su tutto il territorio nazionale, nello specifico quello che è stato indetto qui davanti alla prefettura di Pescara attiene i lavoratori che operano nelle autostrade abruzzesi e marchigiane, quindi parliamo del tratto abruzzese e marchigiano della 14 e poi le autostrade A24 e A25 che collegano Pescara, l'Abruzzo con il Lazio. Questi lavoratori assicurano un servizio supplementare di controllo rispetto ai rischi legati agli incendi che si possono verificare nelle gallerie. E sappiamo che il fenomeno in particolare nel tratto abruzzese e marchigiano è molto sentito, è molto importante perché sono davvero tante le gallerie dislocate nelle tratte autostradali. Il problema è che a questi lavoratori viene applicato un contratto che noi definiamo pirata, cioè un contratto che non riconosce i diritti dei lavoratori, che riconosce delle retribuzioni molto basse. Si pensi che da quando è iniziata la nostra protesta, da quando siamo riusciti a intercettare questi lavoratori che sono venuti loro stessi a chiedere aiuto alle organizzazioni sindacali, si sono affrettati a rinnovare un contratto che non veniva rinnovato da 13 anni. Quindi sono stati questi lavoratori senza un rinnovo contrattuale per 13 anni e per vedersi poi riconoscere la misera somma di 30 euro. E noi questa cosa siamo venuti a dirla anche alla Prefettura, così come sta accadendo in tutta Italia. Peraltro oggi è in programma anche una prima azione di sciopero in Toscana di 4 ore e cui seguirà un'ulteriore azione di sciopero, questa volta a livello nazionale, in programma per il prossimo 25 luglio.